Un saluto da lontano e pregando, mi ritaglio questo spazio per chi crede, ovviamente non volendo imporre niente a nessuno, però io penso che usciremo da questo momento grazie alla scienza, grazie alla medicina, grazie alla ricerca, grazie alla tecnologia, ma anche grazie al buon Dio, alla Vergine Maria e a chi ci segue da lassù. Settimana prossima sarà la festa del papà e sarà una festa del papà molto particolare. San Giuseppe, San Giuseppe da cui tutto è partito, San Giuseppe che ci ha regalato il figlio di Dio, San Giuseppe che una volta era festa di precesto, era festa nazionale e secondo me bisogna recuperare anche alcune tradizioni, per chi crede ovviamente, non entro nel merito, però ricordare e tornare a rispettare nella libertà, ovviamente ciascuno, siamo in uno stato laico quindi ognuno è libero di credere, non credere, pregare, non pregare, però io in questi giorni una preghiera in più la faccio, non per me ma per tutti noi, per la comunità italiana e quindi magari per settimana prossima cercheremo di organizzare un momento di preghiera collettivo, ovviamente l'imperativo è stare a casa quindi non si può andare a messa, non si può andare in parrocchia, però io credo che da lassù qualcuno ci possa e ci voglia dare una mano, quindi magari la organizziamo insieme con le tecnologie, è chiaro che la preghiera è qualcosa di privato però probabilmente se ci uniamo come cuori, come teste, come credenti, come cristiani sicuramente male non fa.